L'esito della gara per l'aggiudicazione del servizio di sosta a pagamento non è da rivedere. La commissione interna, che si è occupata di vagliare le offerte individuando quella della società Eco Parking SRL di Lascari, non ha accolto le osservazioni avanzate dai responsabili di un'altra società che aveva presentato un'offerta alla segnaletica industriale stradale di Perugia. I tecnici che hanno vagliato le proposte hanno concluso per la conferma dell'aggiudicazione alla società palermitana. Gli imprenditori Umbri hanno presentato osservazioni tecniche spiegando che la loro offerta poteva essere variata sul piano della collocazione di dipendenti e dell'entità del personale. Per la commissione però non ci sono le condizioni per dar seguito a quanto riportato nella richiesta di riesame depositata dall'azienda piazzata alle spalle della Eco Parking. In 15 pagine i componenti della commissione indicano le ragioni del no alle variazioni proposte dalla società che non sia giudicata il servizio. Si richiamano i criteri della non ambiguità dell'offerta e dell'immodificabilità. L'esito dell'aggiudicazione viene di fatto confermato. A Palazzo di Città si cerca di chiudere prima possibile la procedura per l'affidamento così da assicurare il passaggio di consegne da Gelas che sta continuando a gestire in proroga il servizio di sosta e parcheggi alla Eco Parking. Anche la fulminia chiusura del parcheggio Arena con un'emergenza che pare comunque superata ha riproposto la necessità di un affidamento ad un'azienda che si dovrà occupare esclusivamente della sosta a pagamento e dei parcheggi con investimenti che dovrebbero migliorarne l'efficienza. La giudicazione è arrivata con un'offerta caratterizzata da un rialzo del 30% sul canone concessorio. L'affidamento si estende per tre anni. Gli introiti per anno sono stati individuati in almeno 400.000 euro. L'assessore Giuseppe Di Cate e il comandante della Polizia Municipale Giuseppe Montana hanno coordinato le attività preliminari per arrivare all'affidamento. Adesso bisognerà chiudere definitivamente con l'avvio delle attività della nuova società.